ciao a tutti benvenuti in questo video allora oggi un video in collaborazione concreta del canale lady shayla e facciamo lo bombi o lo passi allora io ho preso 10 foto per lei e lei per me l'unico problema è che ho qualche problemino con il programma editing sul computer quindi vi farò vedere le foto direttamente dal telefono non le metto su all'interno del video perché appunto non ho qualche problemino e non lo posso fare comunque iniziamo subito questo video io sto mando un grosso bacio a greca la saluto tantissimo e la ringrazio per questa collaborazione quando avrete visto il mio video volate sul canale di greta a vedere il suo video e come al solito se non siete iscritti al sia il mio canale penso iscrivetevi tanto vi lascio poi tutti i link giù nell'info box compresi anche i link dei miei social quindi seguitemi anche sui social comunque iniziamo allora il primo che vi faccio vedere è Brad Pitt che dire di Brad Pitt lo bombo assolutamente lo bombo è un film pazzesco quindi si lo bombo tantissime vuole poi c'è Johnny Depp cioè lui lo conoscerete tutti sicuramente è di nel film Pirati dei Caraibi comunque mi dispiace perché cioè si è un bel ragazzo però non è il mio tipo quindi lo passo poi abbiamo Tiziano Ferro beh che dire di Tiziano Ferro lo bombo assolutamente anche se è fecchione come si può dire però lo bombo lo bombo ah c'è il mio amore assolutamente il mio amore e si tratta di Gabriel Garco che all'inizio a me non piaceva a lui però invece devo dire ho cambiato idea sul suo conto e devo dire che lo bombo lo bombo assolutamente 10 mila miliardi di volte proprio proprio si è troppo bello troppo 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 quinto personaggio è Ryan Gosling lui che devo dire che lo passo assolutamente non mi piace non mi piace non mi piace proprio lui in sé non mi piace assolutamente no poi c'è poi c'è poi c'è poi c'è Alessandro Gasman per me per me è troppo vecchio quindi lo passo assolutamente non è proprio il mio tipo poi c'è Ben Affleck cioè anche lui lo passo no assolutamente non è mio tipo assolutamente no poi abbiamo è tanta roba Cristiano Ronaldo che dire di lui lo bombo lo bombo lo bombo assolutamente si 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 proprio è uno strasico numero uno poi abbiamo David Beckham che sempre vecchio non è proprio il mio tipo assolutamente no quindi lo passo poi per finire abbiamo James Franco che è questo qua che francamente non non l'ho mai visto nessuna parte comunque lo passo perché diciamo che non è proprio il mio tipo mi sembra più un bambino ecco diviso non un bambolone un bambinone quindi a me non mi facciano i bambinoni quindi lo passo assolutamente bene ragazzi questo era il video come ho già detto all'inizio mi raccomando seguitemi anche sui social e trovate tutti i link giù nell'infobox seguitemi anche sul mio secondo canale che a breve ci sarà qualche video ricettina perché come sapete vi avevo già detto anche in un video che ho voluto aspettare a caricare altri video sul mio secondo canale perché appunto volevo fare ricette fresche light diciamo più per l'estate primavera estate più per l'estate che la primavera e quindi ho preferito aspettare comunque a breve ci sarà qualche video ricettina quindi iscrivetevi al mio secondo canale vi troverete giù il link giù nell'infobox mi raccomando adesso quando avete finito di vedere questo video volate sul canale di Lady Shayla cioè sul canale di Greta guardate il suo il suo video e niente io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video ciao